Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su The Division, con Underground in questo nuovissimo videoguida. L'argomento del giorno è come aumentare il proprio gear score e migliorare il proprio equipaggiamento molto velocemente. E in questo video andrò a spiegarvi quella che secondo me è la strategia migliore o comunque l'attività migliore da dover farmare per ottenere dei buoni drop. E questi drop naturalmente andranno ad accostarsi a quelli che già si possono ottenere con le taglie VIP, soprattutto le due più difficili settimanali che praticamente danno sempre a 268. In ogni caso a parer mio il nuovo miglior metodo per poter farmare consiste nel continuare a giocare la nuova modalità Underground. Che cos'è? Essenzialmente questa modalità consentirà di poter giocare un dungeon casuale e affrontare missioni che si creeranno automaticamente e casualmente. Infatti nonostante le ambientazioni siano tutte sotterranee il sistema di creazione sarà procedurale. In pratica voi fate partire la missione Underground e ogni singola zona di questa missione sarà scelta casualmente. Potreste trovare prima un tunnel e due stanze oppure un tunnel, una stanza e poi un altro tunnel e un altro tunnel ancora. O magari un ufficio, scendere sui binari e ammazzare il boss finale e cose di questo genere. L'unico fattore comune sarà che alla fine ci sarà il solito mini boss d'area da dover uccidere. Ma su questa modalità in particolare ho intenzione nei prossimi giorni di fare uscire una guida dettagliata. Per il momento parliamo dei drop. Questa modalità droppa tantissimo. Droppa tantissimo e droppa molto bene. Per molti eplici motivi. Infatti dropperà a fine attività. Il mini boss finale naturalmente darà un drop alta gamma o gear set. Ogni volta che completerete una missione Underground inoltre riceverete anche un pacchetto nel vostro inventario. Pacchetto che potrà droppare fino a 268 che è il cap attuale. Ci saranno delle casse nascoste in questi dungeon e come se tutto ciò non bastasse questa modalità avrà il suo rank. Con un determinato rank e naturalmente dei crediti potrete acquistare dall'apposito vendors nei sotterranei armi e progetti di armi e gear set. Quindi semplicemente questa attività vi dà tutti gli strumenti necessari per poter tirare su facilmente e abbastanza velocemente il proprio equipaggiamento e il proprio gear score. Tutto ciò mentre si gioca una modalità che alla fine è abbastanza simpatica. Molto meno stressante delle incursioni. Non richiederà troppo tempo. E il fattore casuale con cui viene generato il dungeon rende il tutto un pochino più divertente. Ma come ho detto della modalità in sé ne parlerò più approfonditamente nei prossimi giorni. Per il momento vi basti sapere che farmando questa attività potrete migliorare notevolmente il vostro equipaggiamento. Dunque ragazzi per quanto riguarda questo video guida sul come livellare velocemente a partire dal DLC Underground è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento. Pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento. Iscrivetevi se non lo aveste ancora fatto. Condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di The Division. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.